È normale che sarà sicuramente una guerra sportiva e una partita da onestamente dove abbiamo tutto da perdere. Siccome non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo, se la prendiamo nel modo sbagliato potrebbe diventare un problema. Mi auguro che i ragazzi abbiano capito che il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso. Adesso poi se saranno più bravi vinceranno ma dovranno sudare secondo me. Lo spirito è sempre quello, quello giusto. Le assenze sono ormai parte integrante del nostro cammino, del nostro percorso. Quindi avremo anche domani diverse defezioni però concentriamoci su chi ci sarà, sui presenti che sono sicuro in una partita sulla carta proibitiva faranno il loro dovere. Ci manca non so quanto però è ovvio che cerchiamo al più presto punti che ci allontanino ulteriormente da posizioni di eventuale pericolo.